Buongiorno, nuovo video, quest'oggi parleremo di uno dei temi fondamentali di questo business, ovvero l'acquisizione. Tanti confondono la parola acquisizione con acquisto, sono due cose diverse. Acquistare significa che c'è un esborso di denaro e io poi detengo un titolo, in questo caso su quella proprietà. E' ovviamente una cosa molto onerosa, penso che nell'arco della vita se una persona riesce ad acquistare di norma una proprietà è tanto, quindi non stiamo parlando di acquisto, ma acquisizione nel gergo tecnico dell'affitto breve significa invece possedere un titolo su una determinata proprietà che non significa essere il proprietario, al fine poi di avere un guadagno. Questo titolo può essere un titolo di sublocazione, quindi io pago effettivamente, c'è un esborso economico seppur nettamente minore rispetto all'acquisto e ho il titolo di sublocatario e quindi poi io posso mettere la piattaforma su Airbnb, su Booking, generare guadagni. Oppure, secondo me questo è il metodo più interessante perché è a investimento zero, ma io tratto entrambi i metodi, li spiego all'interno di questo canale, li spiego in maniera molto esaustiva all'interno di B&B Academy, che è il nostro corso di formazione. La seconda metodologia è il Property Management, ovvero la gestione di proprietà per conto terzi, in parole povere. Un po' come l'agente immobiliare non paga per poter vendere una casa, ma al contrario viene pagato una percentuale in base ai risultati che ottiene. Ebbene, qua è la stessa identica cosa col Property Management. Quindi, in questo video di oggi, fatta questa doverosa premessa, parliamo di acquisizioni, che possono essere investimento zero o con un investimento sublocazione o Property Management. E, a seguito di questa cosa, ci tengo a fare un'ulteriore precisazione. Qui ho delle note sul computer perché ovviamente non sono Superman e non mi posso ricordare tutto quanto. Se non l'avete capito, non è necessario possedere immobili di proprietà per fare questo business. Io, quando sono partito di proprietà, avevo forse una penna e un motorino, quindi assolutamente non ero il figlio di Berlusconi, non ero figlio di un magnate, eppure nel giro di un anno sono riuscito ad acquisire già tantissimi immobili. E vi riporto l'attenzione sulla parola acquisire. Se avessi voluto acquistare questi immobili, all'epoca l'avrei potuto fare forse solo al Monopoli, mentre grazie al Property Management e grazie alla sublocazione ho potuto acquisire decine di immobili in un solo anno. Detto ciò, suddividiamo le due cose a livello di acquisizione. Parliamo prima di Property Management, che secondo me è un'opportunità molto interessante perché appunto ti permette di guadagnare ad investimento zero, e poi parliamo di sublocazione. Quindi, gestione a percentuale. Zero investimento da fare. Perché? Perché il proprietario mi paga una percentuale, che va di norma dal 20% al 35% circa. Poi ho una villa da decine di milioni, l'ho chiusa al 10%. E ci sono anche quei mega affari dove magari riesci a chiudere anche al 40%. Però in media, una provvigione media va dal 20% al 35%. E quindi io non investo niente. Il proprietario non investe niente su di me. Entrambi lavoriamo diciamo in una sorta di collaborazione. Ma a fine mese, quando la casa ha generato tot mila euro, io mi porto a casa dal 20% al 35%. Poi la percentuale cambia al variare di tutta una serie di condizioni. Se io gestisco magari solo la parte online, prenderò il 20%. Se gestisco magari anche la parte in loco, seppur automatizzata, magari prendo il 30-35%. Detto ciò, il proprietario diventa tutti gli effetti nostro socio. Questo è un grandissimo vantaggio. Poi c'è il video su questo canale su vantaggi e svantaggi di questo business. Andatevelo a vedere qualora non l'abbiate già visto. Ma il proprietario diventa nostro socio. Ciò significa che se anche c'è un piccolo danno alla casa, c'è un qualcosa da riparare, smette di funzionare la cucina, è il proprietario che deve pagare queste cose. Perché lui rimane il proprietario e io sono un suo consulente. Se no è come se io chiamo l'idraulico a riparare i tubi di casa mia, usa il trapano, faccio un esempio stupido, gli dico all'idraulico, no, devi pagare l'elettricità tu per aver riparato a casa mia. No, sono consapevole che arrivando a casa mia dovrai utilizzare una serie di macchinari che magari includono l'elettricità e utilizzerai l'elettricità di casa mia. E lo stesso vale per le bollette. Il proprietario che paga le bollette, il proprietario che paga il condominio, il proprietario che paga eventuali canoni Rai, eccetera, eccetera, eccetera. Guadagniamo appunto poi una percentuale su quello che genera l'immobile al netto delle commissioni OTA. Cioè significa che se l'immobile ha generato 4.500 euro e tolte le commissioni di Airbnb ne avanzano 4.000, bene, noi andiamo a calcolare il nostro importo di solito su 4.000. Le spese di pulizia di norma non concorrono al pagamento della provvigione. Cioè che cosa significa? Le escludiamo. Quindi ancora una volta, se l'immobile ha generato 5.000 euro, 500 sono di pulizie, ne rimangono 4.500, 500 sono di commissioni di Airbnb, ecco noi calcoliamo su 4.000 euro. Le uniche due cose che escludiamo sono pulizia e commissioni di Airbnb. Questa è la prassi. Poi è ovvio che se uno in fase di negoziazione, pur di convincere il proprietario, gli dice no guarda io ti scalo anche le bollette, è liberissimo di farlo. È una cosa che io non faccio, è una cosa che io sconsiglio, è una cosa che la maggior parte delle persone della mia community non fanno, ma ci sono tante persone sprovedute, sfacciate, che non si sono fatti due calcoli in tasca, eccetera, 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 io le reputo così, che includono questo genere di costi. Secondo me, se uno ha la giusta formazione, se uno ha il giusto background, riesce a chiudere senza, diciamo, abbassarsi i pantaloni in questa maniera qui. Perché comunque il nostro è un lavoro e va pagato bene, secondo me. Se uno è un buon property manager, deve farsi pagare. E il detrarre le bollette, secondo me, non è corretto. Fortunatamente, ripeto, nella nostra community è una pratica molto, molto, molto poco utilizzata. Benissimo. Detto ciò, andando avanti, parlando di property management, perché un proprietario dovrebbe darci l'immobile in gestione a noi? Beh, è molto, molto semplice. Il proprietario di norma non ha le competenze, non ha il tempo, non ha la voglia, e se ha una seconda, terza, quarta casa da dare in gestione, probabilmente è una persona più che benestante e uno che magari fa l'avvocato, il medico, l'ingegnere aerospaziale non perde tempo su Airbnb a rispondere a Gertrude da New York che vuole soggiornare nel B&B. Così come tu magari, se hai un problema, hai tubi di scarico, non perdi tempo a fare il fai-da-te, ma chiami un idraulico. Insomma, nella vita tutto può essere fatto in autonomia. Se mi si foro la gomma, io, Ludovico, chiamo il carroattrezzi che mi sistema la gomma o mi porta via l'auto. Poi c'è quello che gli piace sporcarsi le mani e giocare al piccolo meccanico. Però, quando mi venite a dire, Ludovico, ma perché uno dovrebbe dare l'immobile in gestione a me? Allo stesso modo, per il quale uno va a mangiare al ristorante e non cucina a casa, o chiama qualcuno a fargli le pulizie in casa piuttosto che farsele da solo, o chiama l'abbadante a pulire il nonnino anziano al posto di andarlo a fare in prima persona. Cioè, per ogni cosa puoi decidere di fartela da sola o di farla fare ad un professionista. E, per fortuna, la maggior parte delle persone, soprattutto quelle ricche, che hanno dei bei immobili, non vogliono farsele da sole. Queste cose vogliono farle fare a dei professionisti. E oltre a togliersi un grandissimo pensiero, una rottura di scatole, eccetera, 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 per nostra fortuna, guadagnano anche di più rispetto ad un affitto classico. Perché un immobile posto in affitti brevi può sfruttare tutta una serie di dinamiche che un immobile in affitto classico non può sfruttare. L'immobile in affitto classico non è che nel mese di aprile raddoppia il canone di fitto perché c'è il salone del mobile, no? Perché il canone di fitto è quello moltiplicato per 12. Se io a Porto Cervo affitto una casa 12 mesi l'anno, non è che ad agosto gli dico mi paghi di più il canone perché agosto è alta stagione, no? perché è un affitto classico, ok? Quindi un proprietario di norma guadagna di più e anche se non guadagnasse di più comunque ha tanti vantaggi che abbiamo visto nel relativo video e che spieghiamo per filo e per segno all'interno delle nostre community che esulano dal guadagno ma riguardano la tranquillità, la pace d'animo, la sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera di dare un immobile in affitto breve rispetto ad un affitto classico. Dopodiché, un altro punto saliente è sicuramente il fatto che se lavori bene un proprietario innanzitutto rinnova all'infinito. Ci sono immobili che ormai io penso da 6-7 anni in gestione con proprietari che rinnovano ormai sono diventati amici, mi adorano e soprattutto sono molto riconoscenti. E poi diventa una sorta di passaparola virale positivo cioè quando un proprietario è felice innanzitutto se ha altri immobili te li continua a portare a ripetizione o addirittura mi è capitato di proprietari talmente soddisfatti del mio operato che hanno deciso di acquistare altre case quelli che possono permetterselo al fine di darmela in gestione perché sono stati talmente contenti di come ho gestito i loro precedenti immobili che hanno voluto continuare ad investire in questa cosa. E poi se sono soddisfatti ovviamente questi proprietari consigliano la tua gestione ad altre persone e spesso mi hanno tolto il tuo numero Emanuele mi hanno tolto il tuo numero Francesca tutti i proprietari con i quali io lavoro se poi siete furbi qua vi do una chicca create dei cosiddetti come li chiamo io meccanismi di incentivazione quindi create dei meccanismi tali per cui un proprietario è incentivato a presentarti nuova gente beh lì allora avete fatto bingo chiaramente perché se un proprietario ti dici io ti do 500 euro ogni volta che mi presenti un proprietario io effettivamente firmo un contratto quel proprietario inizia a parlarne a chiunque e magari in un anno ti porta a 10 case ed infine vi voglio dare una chicca ovvero il proprietario che di norma dà l'immobile in property management che proprietario è è un proprietario con un minimo di vena imprenditoriale chiamiamola così che capisce l'opportunità capisce che l'immobile può generare più reddito rispetto al solito capisce che in determinati mesi veramente guadagna 3-4 volte tanto e allora decide di collaborare con te lo svantaggio qual è dall'altra parte che magari essendo imprenditoriale vuole contrattare un po' sulla provvigione ed ecco perché il mio consiglio è quello di partire sempre con una provvigione in realtà più alta rispetto a quella che voi volete realmente ottenere quindi fingiamo che voi vogliate chiudere al 30% non fate come prima proposta il 30% come prima proposta fate un 35% contrattate scende a un 33% a un 32% per poi chiudere definitivamente ad un 30% se invece tu vuoi chiudere al 30% la prima cosa che gli dici è 30% difficilmente chiuderai al 30% perché vogliono sempre contrattare i proprietari in virtù del fatto che sono imprenditoriali tra virgolette cioè sanno che possono guadagnare tanto con questa casa hanno un po' questo spirito imprenditoriale e avendo questo spirito imprenditoriale chiaramente loro vogliono anche contrattare da bravi imprenditori questo diciamo è un piccolo recap sul property management che ovviamente è una materia vera e propria ne parliamo per decine di ore all'interno di B&B Academy non può essere riassunto in un video di qualche decina di minuti però a grandi linee questo è secondo me il property management abbiamo poi la sublocazione ci sono gli estremisti che dicono ah no per me devi lavorare solo in property management gli estremisti che dicono per me devi lavorare solo in sublocazione io non sono estremista io sono molto aperto di mente e la mia filosofia è io lavoro in tutte le metodologie se il carone di fitto è particolarmente vantaggioso è un qualcosa diciamo al di sotto della media di mercato quindi è un affare vado in sublocazione se non è un affare se è alla media di mercato o addirittura è superiore alla media di mercato punto al property management quindi investimento zero e mi porto comunque a casa l'immobile piuttosto che perderlo e questa strategia penso mi abbia ripagato abbastanza negli anni perché oggi ho un portfoglio veramente importante da far rabbrividire veramente a livello mondiale qualsiasi property manager detto ciò sublocazione facciamo una premessa è legale articolo 1594 del codice civile perché la cosa che ho sentito più frequentemente nella mia vita è la sublocazione è illegale quando è assolutamente errato la sublocazione è legalissima ripeto articolo 1594 del codice civile che dice che se espressamente dichiarato se espressamente accettato da parte del proprietario di casa la sublocazione è legale quindi ovvio che se un proprietario ti scrive non concedo la sublocazione quel contratto è nullo dal punto di vista della sublocazione cioè tu non puoi sublocare l'immobile ma se un proprietario ti scrive che espressamente invece accettata la sublocazione ed ecco perché noi ad esempio utilizziamo dei modelli di contratti specifici redatti dai nostri avvocati che includono la possibilità di fare sublocazione contratti che ovviamente trovate in B&B Academy maggior info qua in descrizione comunque è legale ma è importante utilizzare i giusti modelli di contratto e mi spiace per voi non sono i contratti che trovate su Google che nessun sano di mente regalerebbe su Google dei contratti fatti bene quindi se volete essere tutelati volete fare questo business fatto bene dovete utilizzare i giusti contratti e ripeto non sono i contratti su Google nessun avvocato stanno di mente si mette a regalare i suoi contratti su Google noi all'interno di B&B Academy ovviamente abbiamo un sacco di contratti tutti fatti da avvocati e sono tutelati questi contratti nel senso che sono stati utilizzati da migliaia di persone controllati da migliaia di avvocati chi più ne ha più ne metta e quindi sono una vera e propria garanzia detto ciò quali sono gli altri punti salienti della sublocazione che abbiamo visto dunque essere 100% legale beh è il fatto che richiesto un investimento bassissimo nettamente minore rispetto magari a ciò di cui avete bisogno per avviare un negozio online un e-commerce un dropshipping o per fare cifre decenti con il trading si parla di secondo me dai 2 ai 4.000 euro per iniziare con una sublocazione quindi abbiamo lo svantaggio che bisogna investire ma è il vantaggio che l'investimento è comunque limitato mia madre per avviare il ristorante ha speso 180.000 euro e guadagnava se tutto andava bene 1.400 euro al mese col property management ha investito zero ne guadagna molti ma molti di più e se anche decidesse di fare sublocazione mia madre spendendo una frazione infinitesimale ad esempio di quello che ha speso con il ristorante potrebbe generare molto di più quindi sì comunque c'è un investimento ma il ritorno è veramente immediato cioè nel giro di qualche mese ti sei pagato l'investimento iniziale e una volta che sei a break even quindi una volta che sei a pareggio chiaramente si parla di fare 1.000 1.500 2.000 poi in base alla sublocazione che hai preso netti ogni mese quindi è un grandissimo vantaggio dall'altra parte anche il proprietario ha dei vantaggi perché abbiamo visto prima il proprietario si libera dal rischio di monosità col property management ma in parte lo fa anche con la sublocazione perché comunque dà l'immobile in gestione a noi che facciamo affitti brevi se siamo bravi abbiamo le giuste informazioni le giuste guide attraverso questi immobili comunque generiamo delle cifre importanti generando delle cifre importanti siamo in grado di pagare il canone di fitto senza nessun tipo di problema chiaro che dall'altra parte se io ci vado a vivere in una casa e una disavventura posso non avere più le disponibilità economiche per pagare questo canone di fitto e diventare dunque moroso quindi anche con la sublocazione il proprietario ha molto meno rischio di morosità ed è un rischio anche qui prossimo allo zero fortunatamente non ho mai conosciuto nessun proprietario che ha avuto problemi di morosità con sublocazione ma ho conosciuto tanti proprietari invece che hanno avuto problemi di morosità con locazioni classiche andando avanti con i vantaggi della sublocazione qui stiamo facendo un mix di vantaggi e svantaggi abbiamo sicuramente il fatto che abbiamo totale autonomia nel business rispetto al property management dove magari come abbiamo visto prima il proprietario è anche un po' un socio e quindi li devo rendere conto se lui mi chiede oh ma come mai domani la casa non ha ancora prenotazioni nella sublocazione no nella sublocazione dovete rendere solo a voi stessi a nessun altro nessun proprietario può venirvi a chiedere come mai la casa ha un determinato tipo di prezzo o a un determinato tipo di prenotazioni perché siete totalmente autonomi a seguito di quel pagamento mensile che fate in sublocazione siete veramente indipendenti poi anche nel property management ci sono quei proprietari che senti veramente una volta al mese solo per farti pagare la fattura quindi l'indipendenza c'è anche nel property management nel property management è una variabile il fatto di essere indipendenti ti capita il proprietario più sulle sue che ti fa meno domande e ti capita il proprietario che ti fa più domande nella sublocazione non è una variabile nella sublocazione non ha certezza il fatto che voi siate indipendenti perché non dovete rendere conto di niente a nessuno ed infine abbiamo visto il profilo di un proprietario in property management andiamo a capire la psicologia di un proprietario in sublocazione beh un proprietario in sublocazione è un proprietario che di norma non vuole rischiare che vuole avere una rendita garantita spesso per definizione è anche un po' più anziano e magari diffidente nei confronti di questo business e siccome è più anziano ne capisce meno è un po' diffidente rispetto a queste nuove tecnologie queste nuove cose cosa ti dice? io voglio i miei 1000 euro al mese veditela tu assolutamente va bene l'importante ecco questa è una cosa importante quando prendete i mobili in sublocazione è non accettateli per il gusto di accettarli ah si mi ha dato la sublocazione quindi accetto cioè accettateli se il prezzo è un prezzo congruo cioè fatevi due calcoli e dite ok mettendola su Airbnb sulla base di dati reali non di supposizioni magiche sulla base di dati reali vi rendete conto che quella casa può andare ad esempio a 160 euro a notte e wow un canone di fitto di 1000 euro al mese più le spese lo copro in non so una settimana ok va benissimo lo prendo se invece ci mettete due settimane a coprire quelle spese lì secondo me è già meno conveniente prendere una sublocazione quindi non fate l'errore che fanno tanti soprattutto coloro che non hanno la giusta formazione di accettare sublocazioni per il gusto di accettarle ah mi hanno detto di sì quindi firmo ma valutate è un discorso simile a Rolex è capitato una persona vicino a me che gli è stato proposto un Rolex molto bello tutto d'oro rosa in aeroporto e siccome gli era stato proposto secondo lui andava preso perché per chi non lo sapesse ormai comprare un Rolex a listino è praticamente impossibile e quindi consapevole del fatto che acquistare un Rolex a listino era molto difficile ha detto ah me l'hanno proposto lo devo comprare invece ho detto no non comprarlo perché per quanto sia disponibile a listino e sia molto bello in realtà questo modello di Rolex nello specifico non si sa perché nel mercato secondario parallelo ti costa meno che comprarlo nuovo quindi è un po' diciamo una mosca bianca ripeto i Rolex sono introvabili ma quello è trovabile perché perché non lo vuole nessuno quindi se una sublocazione è disponibile fate i vostri calcoli perché magari è disponibile perché il prezzo è completamente fuori mercato o magari è un ottimo prezzo ma non confermate la sublocazione sull'onda dell'euforia ma fate sempre le opportune valutazioni perché altrimenti quello che potrebbe essere un ottimo affare ovvero questo business può diventare un incubo ovvero uno sperpero di soldi perché non avete fatto le giuste valutazioni a tal proposito a proposito di giuste valutazioni formazione e non fare errori io vi ricordo che qua in descrizione trovate un sacco di contenuti gratuiti per migliorare le vostre competenze in ambito affitto breve e iscrivetevi al canale sempre per lo stesso motivo ovvero per imparare sempre di più rimanere aggiornati su tutti questi video che stiamo facendo in ambito affitto breve e evitare dunque di fare errori ma al contrario di vivere meglio grazie agli affitti brevi ok iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video ciao ciao